Il momento difficile che stiamo vivendo, segnato in modo importante dalla paura, rischia di lasciare sotto traccia le domande forti che ognuno di noi si porta dentro, sulla vita, sugli altri, sul senso del nostro esistere. Chiediamo in questo momento l'aiuto dello Spirito per poter prendere in mano le grandi domande che questa situazione porta con sé. Prenderle in mano, farle venire a galla, lasciarle accompagnare dall'uomo delle domande che è Gesù di Nazareth per riuscire a scoprire ancora una volta che la salvezza viene dall'incontro, che abbiamo bisogno degli altri, che l'isolamento fa male, che non possiamo vivere senza gli altri. Per fare questo la Diocesi ha pensato di offrire alcune indicazioni che nei prossimi giorni verranno precisate ulteriormente, per aiutare innanzitutto a trasformare questo tempo in un tempo abitato dalla preghiera. Una preghiera fatta di incontro con la parola di Dio, preghiera fatta a piccoli gruppi in famiglia, preghiera dove andiamo a domandare a Dio il dono del discernimento e insieme preghiamo gli uni per gli altri per riuscire a portare la fatica di quest'ora. Poi daremo alcune indicazioni per vivere all'interno della famiglia in maniera più viva i nostri rapporti e la nostra vicinanza. Qualche altra indicazione sarà data per impedire che qualcuno rimanga indietro, perché i nostri ammalati, le persone sole non vengano ulteriormente isolate, ma diventi questo momento in cui noi come comunità cristiana le prendiamo in carico, ci facciamo carico di visitarle. Il venir meno di tante iniziative non diventi il venir meno di quella grande iniziativa che è quella del prenderci cura gli uni degli altri. La mia grande paura è che chi è più povero, più solo, rimanga ancora più indietro. Inoltre attraverso i mezzi della comunicazione sociale cercheremo di riproporrere alcune delle iniziative che avevamo in calendario in vista della Pasqua, cercheremo di far sì che i contenuti di quegli incontri possano essere fruibili da tutta la nostra comunità. Buon cammino insieme, camminiamo con speranza, non lasciamo che la paura vinca.